andiamo dai questa è la frontiera? si fatta così? ma le macchine le dava da tutte le parti potete voltare tra 50 metri con premium avrai le indicazioni vocali passo passo dietro, tendi, dietro dai dai, su no hai hai toccato la linea sull'acqua qui ah, è fuori? scusate puoi andare alla linea? si puoi parlare con il mio collega? perfetto siamo in Danimarca frontiera passata anche alla frontiera hanno detto Teddy stai giù vai dietro Teddy vai dietro andate no tutto a posto Danimarca bene Danimarca vieni sei contento? siamo arrivati in Danimarca vabbè se ti vedono così ti scendano dai ricordiamo Teddy vai dietro ashta Teddy vai dietro l'ha perso l'ha perso ah no l'ho trovata l'ho trovata bravo vieni eccolo ciao Nel giro di quanto? Di 10 minuti? Sì Siamo passati da 7 gradi a 3 gradi Chiaramente si è sentato un campeggio a nubola Tra 400 metri gira a destra su Stellosevi Chiaramente si è sentato un campeggio a 3 gradi Quale scioccherie queste? Queste Chiaramente si è sentato un campeggio a 3 gradi Chiaramente si è sentato un campeggio a 3 gradi Dov'è il caviale? Chiaramente si è sentato un campeggio a 3 gradi A 3 gradi? Sì Due fettine Mamma un po' di sostanza tutto insieme così Un po' di ciccino a te Andiamo adesso Piano Oh Via un dito Per noi cosa abbiamo preso? Erova veloce perché era poi c'è da andare a piazzare il campeggio Che stasera si scena E che ora apre 1 alle 3? A le 3? O che campeggi sono l'orario? Sei a parte aperta? No Vabbè comunque una spesa l'abbiamo fatta Abbiamo speso anche poco Abbiamo preso un po' di pasta Buoni italiani no? Giusto? Eh di ora si Un po' di pasta dopo due giorni di Germania A caffè Ecco stai dicendo il ciambello Abbiamo preso un altro ciambello Pronto molto assalato dai Salata No no Allora cosa abbiamo preso? Questo cosa? Salame? Sì D'altra parte non siamo ancora pronti Non siamo ancora piazzati Non ci stanno fornendo e niente Per ora Tutto dentro Ho messo un po' di queste pane Poi pizza Coca Cola Pane Che non può mai mancare Ancora pane Schiacciatine Pizzine Uova Scoppio Scotti Formaggio Del pomodoro Sacchetti della spazzatura E la pasta Stasera a me un po' di pasta Mi ci va Mi li abitua piano piano Comunque Ah e anche del roast beef Avevamo preso Che l'ha già mangiato Che l'ha già mangiato In tutto abbiamo speso 190 190 corone 190 corone Che sono 25 euro Quindi Perfetto Niente Vieni qua Comunque È piccante Questa pane qua Che non si sa cosa sia Però È buona Teddy cosa fai Gioli? E ora basta Basta Perché c'ha le crocchette Viene Ora mangiamo No C'hanno le crocchette Ma non è che Vi interessa Più di tanto È vero Ti va bene Che oggi è una bella giornata Asciugala bene Eh certo Quelli sono importanti Poi dammi l'accappatoio Che lo stendo Siamo al mio Che lo stendo Siamo al mio Grazie a tutti.